Dicevamo poc'anzi a microfoni spenti quella di sabato, sabato 13 settembre è stata una giornata fortunata perché c'è totale disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Silvio Marito. Sì, c'è totale disponibilità da parte della nostra amministrazione e quindi confermo che è stato un sabato proficuo e fortunato. Ecco, a questo punto però c'è da capire quale sarà l'iter procedurale, è complesso immaginiamo? L'iter procedurale è complesso però il primo passaggio adesso porteremo il progetto in giunta e poi il successivo passaggio sarà il consiglio comunale. Noi ci siamo impegnati affinché le procedure, gli atti amministrativi burocratici non abbiano la solita lentezza quindi ci siamo impegnati io in prima persona affinché abbia tutto uno svolgimento abbastanza veloce. In quanto tempo più o meno l'ok per la fattibilità? Io penso che nel giro di un paio di mesi già siamo pronti per partire perché mi diceva il presidente Sebastiani e il dottor Pierangeli che loro già sono pronti per far partire il progetto e noi anche da parte nostra. Lei è un tifoso, sì. Io sono un tifoso ma ecco voglio precisare che la location di Silvi ha una doppia valenza perché siamo vicini a Pescara quindi siamo in una zona diciamo metropolitana ma poi lo stesso presidente Sebastiani ha ribadito della sua fierezza di avere un grande numero di tifosi silvaroli che seguono anche il Pescara anche nelle trasferte quindi c'è questa doppia valenza. Ricordiamo il punto in cui sorgerà speriamo nel più breve tempo possibile il centro sportivo della Pescara Calcio? Allora il centro sportivo sorgerà sulla statale 16 zona sud proprio a ridosso del bivio che va per Atri quindi diciamo la seconda rotonda venendo da Pescara a Silvi. È un'opportunità questa per Silvi e Marina? Sì, è una grossa opportunità che ci viene data, cioè fare questo centro nella nostra zona perché è una situazione di massima visibilità. Come ti dicevo prima abbiamo anche la fortuna di far partire a breve anche il progetto che la federazione realizzeremo insieme alla federazione gioco calcio un centro sportivo federale. Perfetto, quindi insomma nessun caso il centro sportivo sarà realizzato della Pescara Calcio a Silvi e Marina? Penso che posso dire sicuramente di sì.